ciao a tutti eccoci qui da culo e bella rega e amicia siamo qui a sacrofano e ci siamo fatti un giretto nel borghetto medievale carino e adesso andiamo a mangiare da tonino non è lui nuova gestione beccati su triparvisor e vediamo un po le recensioni se sono veritiere soprattutto quelle negative che noi smentiremo se non è così arriviamo tonino eccoci ecco camicia che si è messa la coppoletta qui sono i parcheggi ragazzi a pagamento tranne la domenica però tariffa orale a 60 centesimi se può fare se può fare girando da piazza 20 settembre giusto giusto camì si va da tonino eccolo lì ecco qui l'ingresso con tanto descritta non vi potete sbagliare insomma unico ingresso qui stiamo entrando a dopo ragazzi ve la ricordate la cabina telefonica qui c'è l'entrata ciao camicia ecco qui guardate che carino salve gioco da vaccinare dice tutto ecco il posto e la cosa importante fondamentale la griglia abbiamo anche una piccola veranda fuori ora non è apparecchiata perché è ottobre ma comunque fa caldo si sta bene vabbè noi ci mettiamo dentro a dove mette camì la sì ecco il nostro tavolino davanti la brace e come ci ha detto come entré un po di patatine al fromage che noi però ci dobbiamo gusta la carne quindi non è che possiamo riempirci mangio due io cincin a voi e a noi col vino rosso dalla casa che accompagnerà la nostra carne cincin a voi il vino a digiuno il mare ci hanno portato le patatine se no io i secondi è buono cincin a voi ormai hai fatto amicizia col vino eh capirai hai fatto amicizia col vino ti ha fermato buonissimo tra un po' avete i d'arco cascono dai buchetti da Tonino eccoci qui già acceso la bracetta per la nostra costata che abbiamo scelto bella grassetta con piace a camicia ecco qua polpettine di melanzane comprovo la calda provala Camì tiè buone e poi i facioli che go di che melanzanina alla parmigiana sempre nell'antipasto dello chef bruschettine bruschettine una con il tartufo e questa particolare con stracciatella di bufala pomodorino secco e alice del cantabrico grazie prego ah zupetta di cipolle zupetta di cipolle buonissima buonissima no 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 raga no scusate ragazzi mi sono alzata perché qui ecco il nostro griglissa d'eccellenza scusami per il bene del ristorante se potessi evitare di riprendere il cuoco io questo lo metto eh solo le mani eh la parte migliore è il profilo e invece saluta i nostri amici di youtube ecco qui questa è la nostra bistecca ah no vabbè ecco la bistecca scelta da noi questa è chianina eh chianina vera chianina vera bella grassetta viene si andiamo appositamente a prenderla proprio dal nostro fornitore che ogni tanto ce la riesce a dare ma ogni tanto ah ecco qua e via e ve la faremo vedere cotta prima che ce la spazzoliamo spazzoliamo via ah ecco qua ah mo la pesiamo pure ecco quant'è? un chilo e due un chilo e due perfetto perfetto lei è pronta per essere cucinata in preparazione la nostra costata ma raga io mi sono rialzata perché qui sta facendo un lavorone se l'ha tagliata e la sta rimettendo sulla brace che meraviglia un burro sta carne eh sì eh eh ci siamo eccola qui eccola qui eccola qui bella costata di chianina guardate com'è impiattata bravissimo complimenti con tanto l'odore mamma mia ma ci siamo goduti tutta la preparazione quindi grazie grazie mi va reshining su apri la porta sono un lupo cattivo e bistecche sta gradendo qui camisa bravissimo 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 vabbè la carne non vi diciamo se l'abbiamo mangiata tutta o meno ma era davvero buonissima e lo spazietto per il dolcetto c'è sta sempre guardate il tiramisù che carino tiramisù buonissima complimenti si stessi buono pronto marescia pronto non sta a mangiare bistecca ma come sei morta tanto cazzo da bove guardarci sua che buona va la gammaria arriva sta pizza marescia che buona va che buona va che buona va che buona va che buona marescia 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 eccoci ragazzi siamo usciti da tonino soddisfatti anche se non è un casino da tonino si mangia bene carne buonissima quindi venite qui a sacrofano e niente bravi ragazzi continuate così ci vediamo presto da culo e camicia ciao a tutti bella riga portaci 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 ciao 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 Grazie a tutti.